Ciao a tutti ragazzi, finalmente eccoci qua sul canale di GeneticDNA come vi avevo già preannunciato nel mio blog, nel mio secondo blog sarebbe arrivato un pacco, una collector molto costosa ma che ci tenevo a prendere è veramente enorme, sta cazzo di scatola quindi andrà veramente fuori visuale però volevo estrarla con voi, anche se so cosa c'è dentro, dal pacco quindi proviamo di fare qualche danno ecco, enorme, enormissimo guardatela qui guardatela qui non esce fuori, tutto non esce fuori la limited edition di Metal Gear Rising adesso ho aspettato un attimo che tolgo fuori dalle palle tutto quanto via il cartone ecco qui veramente enorme sta roba qui non so neanche se riuscirò a farvi vedere tutto e cazzo minchia va fuori campo quindi vediamo un po' qua togliere sta roba ed iniziare a oppa la puttana scivola allora cominciamo tagliamo guardate qua dietro che qua dietro cosa c'è figata figata tagliamola qua così dopo faccio un dopo li metto li metto meglio allora spacchettiamo qui e iniziamo a estrarre il contenuto piccolo grande piccolo grande piccolo grande è quello più piccolo? no no qui abbiamo praticamente la action figure con il nostro Raiden che è veramente veramente enorme sta roba vediamo di farvela di farvela vedere un po' per benino questa roba questa la togliamo non ho calcolato il fatto che era così enorme cosa c'è dentro qua c'è dentro il mondo cos'è qua praticamente dovrebbe essere la base per tenerla praticamente in piedi ma che monterò poi vediamo se riesco a farmi vedere il Raidenino dubito che riesco perché qui è tutto incastorato vabbè sai ve lo faccio vedere qua così ma che figata cioè è veramente alto sto cosa vediamo se riesco a fare un po' così ecco è veramente alto sto cosa vediamo se posso farvi vedere una cosa ecco prendiamo praticamente una copertina della della Playstation tanto per farvi vedere la la prospettiva cacchia è enorme poi qui dentro abbiamo ovviamente il gioco ovviamente qui abbiamo il gioco con i vari codiciazzi e non c'è più spazio e qua cosa ah si qua praticamente abbiamo dentro praticamente un altro codicione ecco qua la collectorona che aspettavo con ansia da tanto tempo avevo già visto qualche qualche unboxing ma andiamo di farvi fare una panoramicuccia però io voglio farvi vedere voglio veramente farvi vedere la statuetta quindi adesso facciamo così facciamo sparire tutto qui e la scartiamo voilà eccolo qui il nostro Raiden con questa super fica armatura è un po' praticamente qua ci sono 250 milioni di pezzi non so cosa serviranno qua c'è il cosone qui che vabbè poi dovrò dovrò assemblarlo comunque è qui sicuramente non starà in piedi wow sta in piedi hey saluta ciao cioè è veramente fatto benissimo cioè ogni dettaglio dell'armatura dell'armatura vabbè adesso non riesce a mettere a fuoco ma cazzo è veramente fatto bene puzza di nuovo schifo cazzo cioè è veramente spettacolo ci sono tutti gli snodi bene dopo monterò questa action figura e vi farò vedere poi come si presenta montata nel tutto bene ragazzi come potete vedere ho avuto voglia di assemblare il nostro Raiden guardate che figata questa action figure veramente fatta da dio avendo fatto questo unboxing volevo comunque farlo vedere bene qua praticamente c'è la sua bella spadina in i fuori vabbè dovrebbe uscire comunque tutte le parti sono veramente mobili qui ci sono altre parti che si possono cambiare per fare diverse figure come vedete lì e niente questo mega unboxing finisce qua di questa bellissima edizione speciale faccio un po' di penno e remiche finisce qui e vi aspetto al prossimo video ciao ciao da GeneticDNA ciao 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 Grazie.